Lama dei Peligni, distretto sanitario, i sindaci dell'Aventino con le loro fasce tricolore sono qui, qui a difendere una sanità nelle aree interne, a chiedere il potenziamento, a chiedere che cosa. Partiamo dal sindaco di Lama dei Peligni, Tiziana Di Renzo. Il motivo di questa vostra presenza qui? Sì, noi chiediamo semplicemente di essere ascoltati dall'assessore regionale alla sanità Nicodetta Verì e dal presidente dell'Aggiunta regionale Marco Marsiglio, perché questi territori devono essere trattati, hanno il diritto di essere trattati, i nostri cittadini hanno il diritto di essere trattati come gli altri territori, come i cittadini che si trovano in zone meno periferiche come la nostra. Noi chiediamo che il distretto sanitario, i distretti di Lama e Torricella vengano potenziati, che le reti di emergenza urgenza 118 vengono riportate con il medico H12 o H24, perché da un annetto e mezzo il medico non è più presente e chiediamo che le vaccinazioni dei nostri cittadini possano essere effettuate nei centri vaccinali preposti, quindi di casoli, ma anche possibilmente nei centri distrettuali e per i cittadini oltreottantenni nei vari comuni, perché come vedrete, come avete visto, insomma venendo qui non è semplice raggiungere i nostri territori, quindi i nostri cittadini, soprattutto quelli più anziani che si trovano a dove spostarsi per fare delle vaccinazioni o per dei servizi di base, hanno più difficoltà di altri cittadini. Sentiamo la voce di qualche altro primo cittadino, lei di dov'è? Di quale comune? Taranta per India, noi chiediamo di essere trattati in maniera uguale, con uguale dignità rispetto a tutti gli altri territori, indipendentemente dalla consistenza demografica e soprattutto crediamo di venire messi in condizione di fare il nostro lavoro dignitosamente. Abbiamo già dato dimostrazione con i centri vaccinali nel periodo peggiore dell'emergenza e per gli oltreottantenni chiediamo semplicemente che i nostri oltreottantenni e i nostri fragili possono essere vaccinati nei nostri comuni, con la nostra organizzazione ci mettiamo a disposizione nella maniera più totale e assoluta. Per quanto riguarda il resto, come ha detto la collega di Lama, c'è necessità di far funzionare i distretti e di ridarci quello che ci è stato tolto, primo tra tutti la medicalizzazione sulle ambulanze del 118. Claudio De Emilio, sindaco di Palena, volevo aggiungere a quello che hanno detto i miei colleghi una cosa importantissima, un incontro al più presto affinché in queste zone dove il turismo veramente è l'anima principale da un punto di vista economico fa sì che le persone possano rimanere in questi luoghi. Solo con una certezza di essere salvati come a Chieti fa sì che le persone rimangano in queste zone. Diversamente è una sfida persa, è brutto dirlo ma purtroppo è una cruda realtà. Velocemente. Sindaco di Civitella Messerraimondo, Torazio Danilo. Ecco, chiediamo all'assessore Veri di essere ascoltati e di farci sapere cosa vogliono fare del piano sanitario regionale e della sanità territoriale in questi territori dopo diverse lettere e diverse richieste di incontri che noi abbiamo fatto. L'assessore deve sapere, ci deve ascoltare. La campagna elettorale è finita. Girare per la campagna elettorale si può. E qui, quando 12 sindaci e diversi sindaci di questo territorio richiedono un appuntamento per diversi mesi non viene concesso. Questo non è plausibile. Il rispetto istituzionale deve esserci da parte di entrambi. Sindaco di Casoli, un'aggiunta immobile che non afferma nulla sulla sanità territoriale. Sono oramai mesi che chiediamo di conoscere. Noi siamo autorità sanitaria locale, ma a questo punto l'aggiunta, l'assessorato in ragione del monitoraggio ministeriale non ci fa sapere nulla e noi rappresentiamo democraticamente i territori delle aree interne. Carmine Ficca, sindaco del comune di Torricella Pellinia. Chiediamo di essere ascoltati perché vogliamo i medici a bordo del 118, vogliamo gli specialisti nei nostri distretti con le dovute e adeguate attrezzature, vogliamo, come dicevo prima, che i nostri territori siano equiparati a quelli delle grandi città. E concludiamo? Domenico Giangiordano, sindaco di Rocca Scalegna. Io finisco, caro Marco Marsilio, cara Nicoletta Merri, noi esistiamo, siamo qui e vi aspettiamo.